Grazie Presidente, in Vietnam morirono molte persone da ambo i lati, io ritengo che usarlo come un esempio in quest'aula sia veramente di cattivo gusto. Però in questo caso mi fa un richiamo all'ultimo, cerchiamo di stare sull'oggetto. Sì, lo so che avete questo tipo di atteggiamento. Dunque vorrei dire che tanta precisione, tanto amore per il rispetto delle regole sentito da chi ha approvato i bilanci a dicembre e a luglio dell'anno in corso mi sembra veramente parabossale. Allora noi, per favore vorrei fare il mio intervento. Grazie, scusi Presidente. Vada alla dichiarazione di voto. Allora la dichiarazione di voto è ovviamente favorevole, non vorrei essere interrotto continuamente. Il voto del Movimento 5 Stelle sarà favorevole perché la scadenza per la presentazione di queste informazioni in via telematica era il 30 maggio, arriviamo con una rettifica il 31 maggio, per un giorno entriamo in sanzione e vorremmo rimanere in sanzione per un giorno solo e continuare ad assumere i dipendenti, le migliaia di dipendenti come abbiamo fatto fino ad adesso da quando ci siamo insediati. Grazie Presidente. Grazie.